La procura di Arezzo indaga per disastro colposo in merito alla frana che si è verificata a lungo la E45 all'altezza di Pieve Santo Stefano. Il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi infatti secondo indiscrezioni avrebbe aperto un fascicolo ed oggi avrebbe nominato tre consulenti che dovranno verificare se possibile individuare la causa che ha provocato il crollo. Proseguono dunque senza sosta gli accertamenti della procura di Arezzo sulla frana. Era lo scorso 11 febbraio quando improvvisamente si aprì una voragine in una piazzola di sosta al chilometro 152 tra le due uscite di Pieve Santo Stefano lungo la corsia nord. A seguito del crollo il sindaco Albano Bragani aveva persino disposto l'evacuazione di tre abitazioni della zona. Attualmente il fascicolo aperto dalla procura di Arezzo e contro i gnoti non ci sarebbero infatti iscritti sul registro degli indagati. I tre tecnici nominati ed individuati tra un gruppo di esperti avranno adesso 60 giorni di tempo per relazionare alla procura. Il procuratore Rossi è inoltre già titolare di un'altra inchiesta sulla E45 nella quale si ipotizza il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti contro quattro dirigenti di ANAS.